Siamo in un luogo veramente Molto bello, è una cornice eclatante Al nostro fianco il grazie e il ben ritrovato ad Antonio Presidente Proloco di questa città di Castilleone Ebbene anche qui si può definire questo luogo Un bellissimo borgo, una cittadina che ha una storia lunga E che la popolazione sempre risponde alla bellezza e all'impegno Sia delle associazioni, sia dell'amministrazione comunale Ma anche dei privati C'è questo senso d'appartenenza che si respira arrivando qui a Castilleone Cosa abbiamo voluto dare in un luogo sacro? E si sa che la musica nei luoghi sacri è sempre la più gradita E allora l'invito ancora per una mostra, come abbiamo detto, sublime, eclatante Ti fa e ti insegna a guardare in alto per capire cosa c'è ancora di bello qua in terra Antonio, cosa ti ha ispirato il fatto di volere una mostra così singolare? Allora, qualche anno fa abbiamo fatto un concerto a casa del vicepresidente della Proloco Di Mandolini e lì è nata l'idea E io volevo ringraziare innanzitutto Tiziano Zanisi Che è un architetto originario di Castilleone e di Cremona Che ha pensato questa mostra Se non ci fosse stato lui che con questa idea non sarebbe stata realizzata L'amministrazione comunale che subito è stata pronta nel organizzare questo insieme alla Proloco Insieme alla parrocchia che ci ha dato questa location splendida E che ci permette tutti gli anni di fare un concerto a Santa Maria in Bressanoro Che è sempre una chicca, un gioiello Dobbiamo dare un appuntamento importante Siamo in una delle chiese più belle di questo Castilleone Santa Maria in Bressanoro Anche lì veramente l'arte nell'arte E anche lì tanta attenzione sono partiti dal tetto Per salvaguardare un'opera d'arte così bella E avremo la gioia di sentire proprio la voce di questi strumenti, di questi mandolini Sì, infatti vi invito domenica 24 giugno alle 21.30 presso il Sagrato di Santa Maria in Bressanoro Dove ci sarà il concerto dell'orchestra di mandolini di Brescia Che sarà con noi, sono 40 elementi che ci grazieranno del suono di questi strumenti È un momento bello, veramente l'abbiamo prima visto impegnato nel bel borgo di Soncino Ma anche questo è il borgo di Castilleone Ora ministro, ma siamo veramente gioiosi di incontrarla forse in uno dei luoghi Che ti dà serenità, pace e che ti porta bene a riflettere su quello che è il senso dell'appartenenza Di tutti noi, orgogliosissimo il Presidente Proloco E poi un castellionese doc che ha donato tanta bellezza Faremo poi l'intervista anche ovviamente agli altri ospiti importanti Ma accogliamo l'occasione intanto di complimentarci Perché ci sta rappresentando la nostro governo Io ho avuto la gioia di venire al Quirinale il giorno dell'apertura dei giardini E siamo stati veramente molto contenti, a sorpresa, anche il Presidente Mattarella E l'abbiamo ringraziato, ringraziato E qui ora invece sentiamo la gioia di essersi tolto un attimo la giacca costituzionale Tra virgolette E la gioia di poter dire è proprio questa La cultura che dà lavoro, che dà intelligenza e che fa incontrare le persone E i giornalisti hanno da lavorare Anche le televisioni, quelle che sono nate nel locale Ma che ora hanno anche un respiro nazionale e non solo Danilo Toninelli, Ministro, alle infrastrutture Cosa può dire di questo momento di bellezza e questa grande emozione Qui nella Castiglione dove lei vive ormai da anni? Sì esatto, è una domenica bella perché è una domenica nel territorio Stamattina siamo andati a celebrare i 900 anni del borgo di Suncino Della città di Suncino, un momento straordinario Ho potuto rincontrare, ho vissuto lì per un po' di anni Rincontrare alcuni miei maestri elementari, delle medie, professori E tanta gente che si ricorda di me che ci vuole bene E che ha voluto onorare una storia straordinaria di cultura E niente, sono tornato qua nel mio paese dove abito ormai da qualche anno Castellione Per incontrare il Presidente della Proloco Per vedere altra cultura, altra storia del territorio Che va valorizzata perché dalla cultura parte e passa l'unica vera rivoluzione necessaria Abbiamo sentito fuori onda che questo momento L'ha voluto fortemente portare via staccare un po' la sua signora E penso che avere al fianco una persona, il femminile, che sa capire l'animo E sa stare con la giusta leggerezza vicino alla persona che ha scelto Per continuare a costruire un momento di dono e anche di promessa sia importante Così è stato un dono anche per noi trovarla e poter appunto incontrarla Qui dove c'è stato un grande dono Un grande dono perché c'è la continuità a un nonno che ha il nipote Che è un liutaio E sappiamo la nostra città di Cremona e tutti i nostri bellissimi paesi Sono veramente ricchi di persone che hanno tanto da dare, da dire E da dare anche nella continuità Un grande esempio Sì esatto, dobbiamo raccontarlo perché non tutti lo sanno Il compito di tutte le istituzioni, del sottoscritto ma di tutti i livelli istituzionali È quello di raccontare alla gente le nostre bellezze, la nostra storia Le persone che ci hanno reso grandi e conosciuti nel mondo nel bene E questo è straordinario Poi tu hai raccordato anche mia moglie Senza la quale ovviamente io non avrei potuto mai fare una cosa Che tra l'altro per me è totalmente inaspettata Io arrivo dalle case popolari del comune di Soncino Pensare di essere, non avrei mai pensato di andare in Parlamento O addirittura di sedere a capo di uno dei ministri più importanti del paese Da cui passa il futuro del paese Perché il ministro dei trasporti è il ministro del viaggio E viaggio non solo per andare a lavorare Ma viaggiare per conoscere le culture come queste Le vacanze, i luoghi turistici, monumentali E io farò di tutto per che questo viaggio sia fatto tranquillo Sereno e felice a tutti i cittadini italiani E stranieri che verranno in Italia a guardarci Lei ha toccato un tasto bello Perché Crema sta vivendo un momento veramente ancora di grande riconoscimento Crema, Castellione, queste città che hanno Soncino Come abbiamo detto prima, Romanengo Insomma ricche di storia che viene da lontano Con questo film è diventata una città da Oscar Quindi quello che lei sta dicendo Il viaggio, il viaggio che inizia dentro di noi E che ci può portare a continuare a guardare in alto Per fare bene quello che c'è qui in terra Come diceva un grande Papa Parte tutto dal nostro Papa Giovanni XXIII Che è uscito in questo momento E' venuto anche lui, è tornato sotto il monte E adesso sarà rientrato là nel suo luogo in Vaticano E ha detto mi raccomando Largo agli uomini di buona volontà E fate sempre una carezza ai vostri bambini O anche a quelli dei vicini Questo è veramente bello In queste parole semplici E qui l'impegno è tanto Le cose da fare sono veramente tante Ma la cosa più bella è che lei oggi l'abbiamo trovata qui Con la sua famiglia nella comunità Che sa dare il giusto valore E sa continuare E sa che c'è qualcuno Che ha un filo diretto per il giusto Non il di più, non il troppo Il giusto, il giusto c'è per tutti Grazie veramente E ci vediamo a Roma Promesso Ci vediamo anche là Perché sarò spesso come giornalista Anche per la bellezza che questa città eterna dona a tutti Infatti i Giardini del Corrinale Con le nostre reti televisive Lombardia TV Son Regina, Video Cremona Lodi, Crema TV L'abbiamo donata A tutti i nostri telespettatori Che hanno gradito veramente Grazie e buona famiglia E buon viaggio allora Al Ministro Danilo Toninelli Grazie a voi Grazie infinite a voi Grazie a voi